Incrementare i centri antiviolenza sul territorio della città di Napoli. È l'appello lanciato dalla sede della Fondazione Banco Napoli, dove si è svolto il primo workshop dedicato alla mappatura e al censimento dei centri antiviolenza nel territorio partenopeo. Efficienza e durata dei servizi. L'iniziativa, organizzata dalla Questura di Napoli e dalla Fondazione Banco Napoli, ha visto la partecipazione di tante donne addetti ai lavori e rappresentanti delle istituzioni, tra loro la vicepresidente del Consiglio regionale della Campania, Loredana Raia. L'impegno costante, oramai partito nella precedente legislatura, che continua anche in questa e l'ultimo atto in ordine di tempo è la legge sulla parità salariale, l'incentivazione, l'impenditoria e l'occupazione femminile, che all'articolo 10 prevede proprio un'attività e un impegno a favore delle vittime di violenza con la possibilità di sgravi IRAP totali per le aziende che intendano assumere donne vittime di violenza a tempo pieno e indeterminato. C'è bisogno di fare rete, soprattutto con le forze di polizia, per non lasciare sole le donne vittime di violenza che devono denunciare. Questo l'appello della Presidenza della Fondazione Banco Napoli, Rossella Paliotto. È partita da questo importante partenariato con la Questura di Napoli, dove al sesto piano è stata realizzata una casa per te, un luogo accogliente, bellissimo. Hanno partecipato anche i ragazzi di Nisida con l'artista Lello Esposito per renderlo un luogo decorato piacevole e questo è stato un primo passo perché lì i nuclei specializzati della Questura, donne, accolgono altre donne o minori che hanno subito reati di violenza. Un 8 marzo che da due anni a questa parte rappresenta una giornata dedicata alle donne in guerra. Negli anni scorsi le infermiere e i medici impegnati sul fronte del Covid. Quest'anno le donne soldato e profughe ucraine. A loro il pensiero del governo italiano è di Valeria Valente, presidente della commissione d'inchiesta sul femminicidio. Bisogna consentire ai centri di programmare la loro attività, quindi gare addirittura non annuali ma addirittura triennali. Qui ho saputo, ho capito stamattina che nel Comune di Napoli siamo addirittura a pochi mesi e poi si rinnovano le gare, quindi tempi di gara molto molto più lunghi. Ma poi procedure più snelle per far arrivare i soldi e soprattutto il riconoscimento delle professionalità. Ecco, la revisione anche dei criteri, dei criteri di accreditamento previsti dall'intesa Stato-Regioni. Queste sono le tre indicazioni che sono venute chiare sul fronte dei centri antiviolenza dalla commissione d'inchiesta.